Io ho finito la storia dell'amico Prince a posto, ma guardi c'è ancora un pezzo che stiamo aspettando Le darò un suggerimento, perché se appiccicarsi non si può ancora Però sudare nella speranza di potersi appiccicare di nuovo è possibile Ha ragione, una speranza Una speranza, certamente, mi faccia fare una presentazione canonica Ma noi speriamo, siamo dei grandi speratori, si può dire speratori? Gli speratori sono coloro che sperano È un neologismo, cognato questa sera, gli speratori Gli speratori sono coloro che sperano Che sperano, sì, sì Ecco, a questo punto posso fare una presentazione canonica per introdurre il prossimo pezzo? È la faccia, la faccia Ladies and gentlemen, l'amico Fritz, alias Francesco Campani Grazie! 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 E ne parla di libero, no, di dove si parla, come polla nell'aria, si intrega la faccia, che riapende la caccia. E con l'uomo si marcia, mi prego la banana, mi prego la mia galla, mi prego la palla, mi prego la palla, banana. Baccia, baccia, picchia, picchia, baccia, picchia, baccia, picchia, baccia, picchia, baccia e picchia, come si non capisce. Non mi prego la mia gallina, ma no, niente. Oh ma se ne sarebbero di qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.